ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video ragazzi oggi vi mostrerò come ho riparato questo pacco batterie a lidio ragazzi un pacco batterie completamente non funzionante 48 volt formato da celle 18 6 e 50 andiamo grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Proverai anche i miei fascicoli tecnici cartacei che sono su Amazon, tutto sotto in descrizione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.